di alessandro manzoni i promessi sposi voce di lorenzo pieri capitolo 7 parte terza il povero vecchio trottava ancora i tre esploratori arrivavano al loro posto il sole cadeva quando renzo entrò dalle donne e disse tonio e gervaso m'aspettano fuori vo con loro all'osteria a mangiare un boccone e quando suonerà l'ave maria verremo a prendervi su coraggio lucia tutto dipende da un momento lucia sospirò e ripete coraggio con una voce che smentiva la parola quando renzo e due compagni giunsero all'osteria vi trovarono quel tale già piantato in sentinella che ingombrava mezzo il vano della porta appoggiata con la schiena ad uno stipite con le braccia incrociate sul petto e guardava e riguardava a destra e a sinistra facendo lampeggiare ora il bianco ora il nero di due occhi grifagni un berretto piatto di velluto kermisi messo storto gli copriva la metà del ciuffo che dividendosi su una fronte fosca girava da una parte e dall'altra sotto gli orecchi e terminava in trecce fermate con un pettine sulla nuca teneva sospeso in una mano un grosso randello arme propriamente non ne portava in vista ma solo a guardargli in viso anche un fanciullo avrebbe pensato che doveva averne sotto quante ce ne poteva stare quando renzo che era innanzi agli altri fu lì per entrare colui senza scomodarsi lo guardò fisso fisso ma il giovine intento a schivare ogni questione come suole ognuno che abbia un'impresa scabrosa alle mani non fece vista ad accorgersene non disse neppure fatevi in là e rasentando l'altro stipite passò per isbieco col fianco innanzi per l'apertura lasciata da quella cariatide i due compagni dovettero far la stessa evoluzione se vollero entrare entrati videro gli altri de quali avevan già sentita la voce cioè quei due bravacci che seduti a un canto della tavola giocavano alla mora gridando tutte e due insieme lì è il gioco che lo richiede e mescendosi or l'uno or l'altro da bere con un gran fiasco che era tra loro questi pure guardaron fisso la nuova compagnia e un de due specialmente tenendo una mano in aria con tre ditacci tesi e allargati e avendo la bocca ancora aperta per un gran sei che ne era scoppiato fuori in quel momento squadrò renzo da capo a piedi poi diede d'occhio al compagno poi a quel dell'uscio che rispose con un cenno del capo renzo insospettito e incerto guardava i suoi due convitati come se volesse cercare nel loro aspetti un'interpretazione di tutti quei segni ma i loro aspetti non indicavano altro che un buon appetito l'oste guardava in viso a lui come per aspettare gli ordini egli lo fece venire con sé in una stanza vicina e ordinò la cena chi sono quei forestieri gli domandò poi a voce bassa quando quello tornò con una tovaglia grossolana sotto il braccio e un fiasco in mano non li conosco rispose l'oste spiegando la tovaglia come neanche uno sapete bene rispose ancora colui stirando con tutte e due le mani la tovaglia sulla tavola che la prima regola del nostro mestiere è di non domandare i fatti degli altri tanto che fin le nostre donne non son curiose si starebbe freschi con tanta gente che va e viene è sempre un porto di mare quando le annate son ragionevoli voglio dire ma stiamo allegri che tornerà il buon tempo a noi basta che gli avventori siano galantuomini chi siano poi o chi non siano non fa niente e ora vi porterò un piatto di polpette che le simili non le avete mai mangiate come potete sapere ripigliava renzo ma l'oste già avviato alla cucina seguitò la sua strada e lì mentre prendeva il tegame delle polpette sumentovate gli s'accostò pian piano quel bravaccio che aveva squadrato il nostro giovine e gli disse sottovoce chi sono quei galantuomini buona gente qui del paese rispose l'oste scodellando le polpette nel piatto va bene ma come si chiamano chi sono insistette colui con voce alquanto sgarbata uno si chiama renzo rispose l'oste pur sottovoce un buon giovine assestato filatore di seta che sa bene il suo mestiere l'altro è un contadino che a nome tonio buon camerata allegro peccato che n'abbia pochi che gli spenderebbe tutti qui l'altro è un sempliciotto che mangia però volentieri quando gliene danno con permesso e con uno sgambetto uscì tra il fornello e l'interrogante e andò a portare il piatto a chi si doveva come potete sapere riattaccò renzo quando lo vide ricomparire che siano galantuomini se non li conoscete le azioni caro mio l'uomo si conosce alle azioni quelli che bevono il vino senza criticarlo che pagano il conto senza tirare che non mettono sulite con gli altri avventori e se hanno una coltellata da consegnare a uno lo vanno ad aspettare fuori e lontano dall'osteria tanto che il povero oste non ne vada di mezzo quelli sono i galantuomini però se si può conoscere la gente bene come ci conosciamo tra noi quattro è meglio e che diavolo vive in voglia di sapere tante cose quando siete sposo e dovete aver tutt'altro in testa e con davanti quelle polpette che farebbero risuscitare un morto così dicendo se ne tornò in cucina il nostro autore osservando al diverso modo che teneva costui nel soddisfare alle domande dice che era un uomo così fatto che in tutti i suoi discorsi faceva professione di essere molto amico dei galantuomini in generale ma in atto pratico usava molto maggior compiacenza con quelli che avessero riputazione o sembianza di birboni che carattere singolare la cena non fu molto allegra i due convitati avrebbero voluto godersela con tutto loro comodo ma l'invitante preoccupato di ciò che il lettore sa e infastidito e anche un po inquieto del contegno strano di quegli sconosciuti non vedeva loro ad andarsene si parlava sottovoce per causa loro ed erano parole tronche e svogliate che bella cosa scappò fuori di punto in bianco gervaso che renzo voglia prendere moglie e abbia bisogno renzo gli fece un viso brusco vuoi stare zitto bestia gli disse tonio accompagnando il titolo con una gomitata la conversazione fu sempre più fredda fino alla fine renzo stando indietro nel mangiare come nel bere attese a mescere ai due testimoni con discrezione in maniera di dar loro un po di brio senza farli uscire di cervello sparecchiato pagato il conto da colui che aveva fatto menguasto dovettero tutti e tre passar nuovamente davanti a quelle facce le quali tutte si voltarono a renzo come quando era entrato questo fatti che ebbe pochi passi fuori dell'osteria si voltò indietro e vide che i due che aveva lasciati seduti in cucina lo seguitavano si fermò allora con suoi compagni come se dicesse vediamo cosa vogliono da me costoro ma i due quando si accorsero ad essere osservati si fermarono anch'essi si parlaron sottovoce e tornarono indietro se renzo fosse stato tanto vicino da sentir le loro parole gli sarebbero parse molto strane sarebbe però un bell'onore senza contar la mancia diceva uno dei malandrini se tornando al palazzo potessimo raccontare d'avergli spianate le costole in fretta in fretta e così da noi senza che il signor griso fosse qui a regolare e guastare il negozio principale rispondeva l'altro ecco se ha visto di qualche cosa si ferma a guardarci e se fosse più tardi torniamo indietro per non dar sospetto vedi che viene gente da tutte le parti lasciamoli andare tutti a pollaio c'era infatti quel brulichio quel ronzio che si sente in un villaggio sulla sera e che dopo pochi momenti dà luogo alla quiete solenne della notte le donne venivano dal campo portandosi in collo i bambini e tenendo per la mano i ragazzi più grandini ai quali facevano dire le divozioni della sera venivano gli uomini con le vanghe e con le zappe sulle spalle all'aprirsi degli usci si vedevano luccicare qua e là i fuochi accesi per le povere cene si sentiva nella strada barattare i saluti e qualche parola sulla scarsità della raccolta e sulla miseria dell'annata e più delle parole si sentivano i tocchi misurati e sonori della campana che annunziava il finir del giorno quando renzo vide che i due indiscreti si erano ritirati continuò la sua strada nelle tenebre crescenti dando sottovoce ora un ricordo ora un altro ora all'uno ora all'altro fratello arrivarono alla casetta di lucia che era già notte tra il primo pensiero di una impresa terribile e l'esecuzione di essa ha detto un barbaro che non era privo di ingegno l'intervallo è un sogno pieno di fantasmi e di paure lucia era da molte ore nell'angoscia ed un tal sogno e agnese agnese medesima l'autrice del consiglio stava sopra pensiero e trovava stento parole per rincorare la figlia ma al momento di destarsi al momento cioè di dar principio all'opera l'animo si trova tutto trasformato al terrore e al coraggio che vi contrastavano succede un altro terrore un altro coraggio l'impresa si affaccia alla mente come una nuova apparizione ciò che prima spaventava di più sembra talvolta divenuto agevole tutta un tratto talvolta comparisce grande l'ostacolo a cui si era appena badato l'immaginazione da indietro sgomentata le membra par che ricusino dubbi dire e il cuore manca alle promesse che aveva fatte con più sicurezza al picchiare sommesso di renzo lucia fu assalita da tanto terrore che risolvette in quel momento di soffrire ogni cosa di star sempre divisa da lui piuttosto che eseguire quella risoluzione ma quando si fu fatto vedere ed ebbe detto son qui andiamo quando tutti si mostraron pronti ad avviarsi senza esitazione come a cosa stabilita irrevocabile lucia non ebbe tempo né forza di far difficoltà e come strascinata prese tremando un braccio della madre un braccio del promesso sposo e si mosse con la brigata avventuriera zitti zitti nelle tenebre a passo misurato usciron dalla casetta e preser la strada fuori del paese la più corta sarebbe stata ad attraversarlo che s'andava diritto alla casa di don abbondio ma scelsero quella per non essere visti per i viottole tra gli orti e i campi arrivaron vicino a quella casa e lì si divisero i due promessi rimasero nascosti dietro l'angolo di essa agnese con loro ma un po più innanzi per accorrere in tempo a fermar perpetua e a impadronirsene tonio con lo scempiato di gervaso che non sapeva far nulla da sé e senza il quale non si poteva far nulla si affacciaron bravamente alla porta e picchiarono chi è a quest'ora gridò una voce dalla finestra che s'aprì in quel momento era alla voce di perpetua ammalati non ce n'è chi io sappia è forse accaduta qualche disgrazia sono io rispose tonio con mio fratello che abbiamo bisogno di parlare al signor curato è ora da cristiani questa disse bruscamente perpetua che discrezione tornate domani sentite tornerò o non tornerò ho riscosso non so che denari e venivo a saldar quel debituccio che sapete aveva qui 25 belle berlinghe nuove ma se non si può pazienza questi so come spenderli e tornerò quando non abbia messo insieme degli altri aspettate aspettate vo e torno ma perché venire a quest'ora li ho ricevuti anch'io poco fa e ho pensato come vi dico che se li tengo a dormire con me non so di che parere sarò domattina però se l'ora non vi piace non so che dire per me son qui e se non mi volete me ne vo no no aspettate un momento torno con la risposta così dicendo richiuse la finestra a questo punto agnese si staccò dai promessi e detto sottovoce a lucia coraggio è un momento è come farsi cavare un dente si riunì ai due fratelli davanti all'uscio e si mise a charlar con tonio in maniera che perpetua venendo ad aprire dovesse credere che si fosse abbattuta lì a caso e che tonio l'avesse trattenuta un momento